Il corso Design Thinking per innovare e creare soluzioni di valore in co-design con il cliente offre ai partecipanti competenze pratiche per affrontare l'incertezza e rispondere in modo innovativo ai bisogni dei clienti e delle parti coinvolte. Utilizzando una metodologia collaborativa, si promuove un mindset orientato alla progettazione partecipata, coinvolgendo tutti i livelli aziendali nella generazione di soluzioni creative. Attraverso strumenti operativi di design, i partecipanti apprenderanno come risolvere problemi complessi e sviluppare proposte di valore, verificate e migliorate grazie a un flusso continuo di feedback. Puoi scegliere se seguire il corso in modalità interaziendale nelle date programmate, oppure organizzarlo presso la tua azienda, personalizzandolo sulle tue esigenze. Entrambe le modalità possono essere finanziate con fondi impresa o fondi dirigenti.